E finalmente il momento è arrivato, ROG Phone 3 è nelle mie mani e vi spiego perché ROG Phone 2 l'anno scorso è stato il mio smartphone preferito e quest'anno ROG Phone 3 ne è la sua naturale evoluzione. Partiamo dalle caratteristiche tecniche, ASUS con ROG ci ha sempre abituato ad avere il meglio della tecnologia in quel momento disponibile e qui la promessa è assolutamente mantenuta. ROG Phone 3 è praticamente esteticamente identico a ROG Phone 2 ma trova in quegli elementi, in quei dettagli stilistici la differenziazione più importante ovvero è diventato più uno smartphone quasi business che è un gaming phone all'apparenza. Ovviamente all'interno Snapdragon 865 nella mia versione 16 512 in versione plus del processore, 5G completo e soprattutto supporto dual sim 5G. cosa non scontata perché come abbiamo visto negli ultimi mesi con gli annunci da parte di alcuni competitor il 5G dual sim non è assolutamente così frequente da trovare e quindi un prodotto assolutamente completo per tutti gli utilizzi. Uno smartphone che ovviamente fa della batteria il suo valore aggiunto, 6000 mAh, delle memorie UFS 3.1, quell'elemento che fa della scheda tecnica da cellulaturista un po' la chicca no? Perché alla fine è estremamente rapido ed è il meglio che si può trovare oggi in termini di rapidità proprio delle memorie. Uno smartphone che poi trova dei miglioramenti nel reparto fotografico e l'essenza ROG al 100%. Ma partiamo con ordine, partiamo dall'accesso, dal display. Dimensionalmente è identico, abbiamo sempre quel pannello OLED con lettore sotto al display e anche un sensore frontale fotografico che ci permette di sbloccare in maniera estremamente rapida il telefono con il viso che permette di accedere al mondo ROG in maniera veramente rapida e veloce. Pannello con risoluzioni Full HD+, ma a 144 Hz. E qui la prima novità appunto, ASUS ha migliorato ancora la tecnologia e è andata a implementare a livello software una funzionalità che non avevamo sul precedente ROG, ovvero la regolazione automatica della frequenza di aggiornamento. È una soluzione molto intelligente perché vi permetterà di avere il massimo dei frame rate dove è necessario, quindi in quei giochi già ottimizzati per esempio a 144 Hz, ma al tempo stesso di avere un'esperienza molto fluida ma non così spinta nel refresh rate all'interno dell'interfaccia utente e quindi avere un risparmio, se vogliamo, energetico. Un display che però trova quel valore aggiunto nell'interfaccia utente perché ASUS, come su ROG Phone 2, maturando l'esperienza dell'ultimo anno, ha inserito nell'interfaccia tutte quelle funzionalità che siamo abituati ormai a trovare in uno smartphone Android 10 con patch di luglio, quindi estremamente aggiornato e che ha le gesture laterali personalizzabili con la possibilità di impostare anche il tipo di pressione che bisogna fare per fare lo swipe indietro, possibile sia dalla parte destra sia dalla parte sinistra. Ha ovviamente tutte le gesture per entrare all'interno del multitasking, abbassare le notifiche con uno swipe o entrare nel menu delle applicazioni. Tutto per permettere l'utilizzo con una mano, visto che le dimensioni sono molto importanti. Dimensioni che fanno pari col peso, 240 grammi. Sì, sono tanti, sono probabilmente il massimo che oggi troviamo nel mercato smartphone, ma qui sono decisamente giustificati. È lo stesso discorso che fece l'anno scorso e qui oltre a questo elemento, quindi la batteria così grande, ci sono anche dei connettori in più. C'è un connettore laterale, il classico, il solito, del ROG Phone 2, che ha l'interfacciamento con tutti quegli accessori particolari e una invece per la ricarica rapida fino a 35 watt. L'altra, in basso, è un'altra dai PSI per la ricarica e ovviamente il collegamento di qualsiasi altro tipo di accessorio che funziona anche lateralmente. Primo elemento distintivo, manca il jack audio. È vero, manca, lo sottolineo di nuovo, ma è altrettanto vero che c'è un motivo e il motivo l'ho chiesto ad Asus banalmente. Perché non siete riusciti a mettere il jack audio su questo prodotto? Perché per mantenere già la struttura di ROG 2 all'interno di una dimensione invariata, qualche sacrificio è stato fatto. Le antenne del 5G sono comunque più grandi rispetto a quelle del 4G. C'è una fotocamera in più, che banalmente all'interno della scheda madre occupa fisicamente dello spazio e quello spazio era già estremamente limitato nel ROG Phone 2 e qui si è dovuto trovare fondamentalmente andando a togliere quel vuoto dato dal jack audio. Dunque, una motivazione che però in confezione viene in qualche modo mitigata. C'è infatti la nuova ventola che si attacca sempre lateralmente con il connettore laterale che aggiunge il jack jack audio. Quindi comunque se avete delle cuffie a jack potete usare questo accessorio. Ovviamente in confezione c'è anche un dongle che da Type-C vi trasforma e vi porta fuori l'uscita audio. Quindi dai, insomma, in qualche modo le vostre cuffie normali le potete utilizzare. Un altro aspetto che mi ha davvero piacevolmente riconvinto, perché poi a livello software non ci sono grosse differenze nell'uso quotidiano rispetto al ROG Phone 2 per quanto riguarda la UI, la personalizzazione, è che Android Stock qui ha gli anabolizzanti, gli steroidi. È stato migliorato, le icone sono molto carine, sono state inserite tutte quelle funzionalità per il display, per l'adattamento dei colori, per la gestione del tema, per i temi stessi che possono essere personalizzati. Il launcher è estremamente simile a quello di Android Stock, c'è Google laterale, ci sono tutte quelle funzionalità di personalizzazione di widget e degli sfondi, ma c'è anche la possibilità di andare a utilizzare Icon Pack di terze parti, scaricabili facilmente dal Play Store, che vi permettono di personalizzare in pratica il vostro smartphone, a vostro piacere, senza installare applicazioni di terze parti. Ma in più c'è la funzione Blocco App, che per me è davvero una killer application. Perché? Perché io lavorando, ho nel mio smartphone dei dati estremamente sensibili, banalmente ho quattro account di posta elettronica dove ci sono informazioni sotto imbargo, informazioni non divulgabili, quindi chiunque prende il mio smartphone, anche se è sbloccato, non può accendere alla mail finché non appoggia il dito sul lettore. Il lettore, che è davvero molto veloce, molto sensibile, è secondo me migliorato anche rispetto al precedente ROG Phone 2, per cui ha un'animazione più carina, ma proprio una velocità, una reattività, data forse anche dalla miglior potenza, l'865 Plus, è infatti il massimo che oggi si può desiderare a livello di potenza computazionale e quindi poi di reattività. I 16 GB di memoria RAM poi fanno la differenza e ve lo dico perché l'ultimo ROG che ho usato per diverso tempo, perché il precedente mi si era rotto, mi è cascato in terra, era la versione Strix, quindi quella 8-128, quindi i 16 GB di RAM di questo smartphone, di questo modello, fanno la differenza perché il multitasking non solo è estremamente efficace, ma rimangono aperte in RAM veramente tutte le applicazioni, si ha una gestione dei programmi incredibile, non sono mai riuscito a vedere un ricaricamento se non la mattina dopo, ma soltanto in alcune applicazioni particolari, tipo il campanello domotico che effettivamente mi si era riavviato semplicemente perché è l'applicazione diciamo sua che non è proprio perfetta. Asus è poi intervenuta su tutte quelle funzionalità che vanno incontro al pubblico gamer, al pubblico che in teoria dovrebbe essere interessato a questo smartphone, ma che parto da quella parentesi sugli accenti, sui dettagli cambiati, adesso secondo me va molto incontro all'utenza anche business perché lo vedete nella parte posteriore rispetto al precedente ROG abbiamo una livrea con una colorazione che secondo me è veramente fantastica e vi invito a vederla magari dal vivo perché è una sorta di grigio blu con dei riflessi davvero davvero molto molto belli. Rimane il logo ROG personalizzabile nei colori per cui può essere scobaleno o può essere del colore della notifica dell'applicazione telegram blu, whatsapp verde, gmail rosso, in questo caso sicuramente ho un telegram e andiamo a vedere esattamente un telegram, ma come vedete la parte laterale del sistema di dissipazione del calore è più sobria, più piccola, in questa versione 16.5.12 trasparente si vedono le viti, è veramente molto molto bello e inoltre si perdono gli accenti nella parte delle casse anteriori, gli accenti arancioni, quegli accenti che magari a non tutti piacevano è tutto nero, molto più sobrio, molto più elegante e ovviamente le casse frontali rimangono. Sono due speaker realizzati in collaborazione con Dirac per quanto riguarda l'equalizzazione del suono che sono lo stato dell'arte attuale degli smartphone, si riesce ad avere un audio estremamente avvolgente, caldo, pulito, soprattutto lo si ha in tutte le condizioni, in tutti i momenti di riproduzione multimediale, per cui se io vado a vedermi un video, se vado ad ascoltarmi una telefonata direttamente dal vivo a voce, si ha davvero un'esperienza audio che pompa quasi, no? Cioè la cassa in basso infatti rispetto a quella in alto c'è un leggero squilibrio, tra virgolette, ma semplicemente perché questa cassa qua è un pochino più grossa e ha proprio i bassi, si sente, probabilmente ora ho Francesco dietro la telecamera che annuisce, cosa che sul ROG Phone 2 non c'era o non c'era in questo modo, il volume generale non è tanto più alto, cioè bisogna andare proprio con un fonometro a misurare quei 3, 4, 5 decibel di differenza, ma è proprio la qualità, l'avvolgenza del suono, la potenza dei bassi che fa la differenza. Poi ci sono quelle funzionalità software tramite il famosissimo sistema di gestione della console di Asus, sistema che vi permette di andare a a gestire gli air trigger, ovvero quei tasti diciamo hardware ma invisibili nella parte degli angoli superiori in alto e in basso dello smartphone che adesso non solo sono migliorati da un punto di vista proprio delle funzioni e della sensibilità, ma hanno delle opzioni in più, per cui c'è lo swipe, c'è il tocco, ma c'è la possibilità di andare a dividere il tasto trigger in due parti, in modo da avere una sorta di L1 e L2 e quindi anche nei giochi molto complessi che voi potete andare a impostare, a gestire attraverso appunto questo sistema software, è possibile personalizzare al massimo l'esperienza, esperienza che poi anche al di fuori dei giochi ci permette di sfruttare questa pressione perché in verticale premendo io posso andare a lanciare diversi comandi tramite questa pressione, quindi apro un'applicazione, abbasso il volume, metto non disturbare, accendo la torcia o qualsiasi altra cosa che può essere gestita. All'interno poi della console è possibile andare a visualizzare tutte le informazioni super nerd, per cui la temperatura, il clock della CPU, della GPU, chiaramente qui è tutto massimo perché è il plus come processore, vedere la memoria RAM, modificare la velocità della ventola, tutte cose che spiegherò nel focus gaming che farò successivamente a questa recensione perché ancora gli accessori non mi sono arrivati. C'è ovviamente la modalità X che spara tutto quanto al massimo, quindi 2.8 GHz, aumenta il clock della GPU, vi permette di avere ancora più tolleranza da un punto di vista della temperatura, quindi magari anche se vi scalda un po' comunque non ci sono problemi di affidabilità, un ROG Phone 3 che migliora tutto quello che era possibile migliorare del ROG Phone 2 e qui la fotocamera la fa da padrona. Sì, il ROG Phone 2 non è un camera phone, non lo è mai stato, anzi, ROG Phone 3 non è un camera phone, non lo sarà mai, ma fa delle foto davvero molto belle di giorno. In particolar modo la qualità fotografica di questo smartphone è paragonabile a top di gamma di pari fascia, quindi non gli ultra top, quelli da oltre 1000€, magari non tutti, però siamo davvero in linea con quanto il mercato offre nella sua stessa fascia di prezzo, 64 megapixel principale, con una fotocamera macro da 5 megapixel, la possibilità di effettuare ovviamente scatti con la modalità HDR automatica, c'è una rinnovata intelligenza artificiale che riconosce le scene, cibo, panorami e via dicendo, ottimizza il tutto, filtri bellezza, ma soprattutto modalità manuali, sia per quanto riguarda le foto, sia per quanto riguarda i video, modalità notte dedicata che migliora un po' le performance della fotocamera di notte e, cosa molto importante, a livello video due elementi significativi, 8K, 30 frame al secondo, sì, c'è lo durismo al massimo, ma 4K a 60 frame al secondo e assolutamente novità credo unica nel panorama mobile, slow motion 4K a 120 frame al secondo, il full HD è addirittura 240 frame, dunque una componente video veramente, veramente sorprendente, non è stabilizzato otticamente, c'è solo l'elettronica, questo è il limite tra un camera phone e un ottimo smartphone per fare le foto e ci sono poi tutte quelle funzionalità in più avanzate all'interno dell'interfaccia che ormai fanno parte, diciamo, di moltissimi dispositivi, no? Cos'altro dire? Ci sono delle chicche, tipo il LED posteriore, che non è il flash, ma è quel LED che vi permette di andare a mettere quegli accessori che vanno a colorare i case, no? In questo caso Asus ha presentato con il ROG Phone 3 una custodia che ha tantissimi LED qua in mezzo e che si illumina nel momento in cui vi arriva una notifica, va a creare un effetto luminoso ancora più bello, ancora più piacevole. Custodia tra l'altro che viene data in dotazione non questa, ma quella che abbiamo visto sul ROG Phone 2 l'anno scorso, quindi quella ragno, non saprei come chiamarla e che comunque vi dà un grado di protezione sicuramente interessante. Ora mi è arrivata una notifica, quindi ve la faccio vedere in diretta. Volete sapere altre chicche? Volete sapere altre caratteristiche? Sì, c'è l'HDR 10, c'è un tempo di risposta di 270 Hz per quanto riguarda il riconoscimento del tocco, tutte caratteristiche uniche nel panorama smartphone e nel panorama gaming phone. È il miglior gaming phone in assoluto ed è un prodotto che poi da un punto di vista dell'uso telefonico dà grosse soddisfazioni. Vi ho getto un'apertura dual sim 5G completo, 5G completo anche in single sim. La possibilità di registrare le telefonate, davvero una killer future, davvero dovremmo averla tutti, è veramente fantastica. La ricezione è veramente ottima, l'audio in chiamata molto molto convincente, nessun problema col bluetooth 5.1, NFC, wifi dual band con il supporto a tutte le ultime tecnologie, anche wifi 6. Quello che il mercato offre è qui dentro. Lo step in più messo da Asus riguarda tutti quegli accorgimenti gaming e un pannello a un refresh rate impressionante. Tempo di risposta, 1.000 secondo e ora arriviamo. Prezzi e configurazioni. Perché qui, secondo me, si gioca la partita. Perché sì, esteticamente ROG Phone 3 è molto simile a ROG Phone 2. È diciamo l'evoluzione di un prodotto che difficilmente già nella precedente generazione aveva competitor. In questa non ce l'hai, non c'è stato il bisogno, passatemi il termine, di esagerare a livello estetico. Anzi, proprio il conservare la propria identità, togliere addirittura quegli elementi un pochino tamarri, secondo me è la formula che può convincere anche l'utente che l'anno scorso non si era avvicinato a ROG Phone 2 perché è un pochino troppo appariscente. Non vi ho parlato della batteria semplicemente perché quello che dissi l'anno scorso vale anche quest'anno. L'865 Plus ha migliorato ancora i consumi energetici. Il 144 Hz va invece in direzione opposta, quindi se lo usate al massimo della potenza, 144 Hz, avrete esattamente la durata dello scorso anno, quindi impossibile scaricarlo in un giorno lavorativo. Se invece lo utilizzate in modalità automatica, normale, quindi non X, quindi non al massimo delle prestazioni, riuscirete probabilmente ad arrivare anche a due giorni pieni di utilizzo in modalità diciamo normale, quindi non eccessivamente uso di 8 ore al giorno di display, ma alle 8 ore di display le raggiungerete senza particolari problemi. Dicevo i prezzi, 799 euro, la versione 8 256 ovvero Strix, è però una versione che rispetto al modello dello scorso anno è pensata per il mercato italiano, dunque ha tutte le bande ed è identica in tutto e per tutto a questo modello top gamma, fatta eccezione per il processore, lì ha l'865 e non il plus, però in dotazione avrete una Stadia Card con tre mesi di Stadia Pro inclusi, quindi praticamente avrete l'accesso a Stadia senza dover comprare abbonamenti particolarmente costosi e i primi 200 avranno anche le ROG Cetra, quelle da 99 euro Type-C in omaggio, il modello 12 512 e vi ricordo che tutti hanno le UFS 3.1 costerà 999 euro, il modello che ho io, quindi l'Ultimate 16 512 1099 euro, per tutti dai primi 200 cuffie in omaggio e per tutti comunque sempre la Stadia Card inclusa, insomma un prodotto che si conferma esattamente quello che molti utenti chiedevano, sobrietà, completezza, fotocamera migliore, schermo ancora più convincente, in esterna si vede davvero davvero molto bene, luminosità ottima, audio perfetto e un prezzo che è assolutamente in linea con quello dell'anno scorso, c'è ancora più in memoria e quindi siamo tutti contenti. Maggiore informazioni e ovviamente i dettagli li trovate qua in descrizione, ci saranno poi ulteriori sviluppi sulla recensione di questo prodotto con gli accessori che vi dicevo ancora non ho potuto provare a differenza dell'anno scorso, ci sono dei accessori che sono proprio esattamente uguali, un miglioramento per quanto riguarda il pad di gioco che adesso è ancora più carino esteticamente un pochino più stondato e ci saranno delle novità che ancora non conosco neanche io perché sto registrando questa recensione qualche giorno prima della presentazione ufficiale dove ci saranno delle sorprese da parte di Asus, quindi anche io dovrò conoscere magari qualche accessorio che adesso mi sfugge, quindi torneremo su questo e completeremo poi la recensione. Ciao!